Dopo l'incendio, ora a Sarno, si temono le piogge. L'arrivo dell'autunno e soprattutto gli improvvisi temporali di un clima sempre più folle hanno innescato ansie e preoccupazioni. Per il geologo Franco Ortolani il rischio di colate è elevato. L'incendio infatti ha modificato la stabilità del versante del Monte Saretto. Le aree devastate dal fuoco, incombenti su aree abitate, possono alimentare flussi di detriti distruttivi incanalati quando i versanti vengono investiti da piogge intense. I versanti percorsi dal fuoco, qualora vengono interessati da nubifragi, inevitabilmente alimentano un diffuso ruscellamento e conseguenti colati di detriti e piene che possono devastare il fondo valle dove si trovano infrastrutture e manufatti vari. L'altro giorno siamo stati fortunati che le grandi piogge hanno sfiorato Sarno. Cosa può succedere? Ne abbiamo esempi intorno in vicinistro, a Montoro, quindi non è molto difficile prevedere. Tutto il legno che si è bruciato, tutta la vegetazione che stabilizzava il versante adesso invece è diventato con la cenere materiale che invece di favorire l'infiltrazione, lo scorrimento dell'acqua lungo di versante. Per cui un nubifragio, 50-70 mm in un'ora ad esempio, può attivare un diffuso che attiva detriti colati che possono invadere l'area abitata a valle. Ecco questo. Se invece il nubifragio non colpisce la zona del suo vetto, non succede niente. L'immediato è naturalmente una polizia dei valloni che affluiscono al di sopra dei centri abitati, però questo non risolve perché l'area incendiata a monte è molto vasta. Solitamente si potrebbe attivare un sistema di allarme idrogeologico immediato, siccome questi nubifragi sono avvertibili, quando iniziano si possono individuare. E prima che siano luogo a colate di fango, di retriti, ci mettono almeno 15-20 minuti, potrebbe essere attivato un allarme per dire ai cittadini che gli attivano in mezzo alle strade. A futuro la vegetazione ricresce da sola, quindi non è che c'è bisogno di intervenire al di sopra per fare una forestazione, questo sia ben chiaro. Grazie. Grazie.